Abbiamo fatto diverse gare dove sono riuscito ad arrivare o quarto, o quinto, o sesto, o quinto, o quinto. Quindi diciamo che è nelle nostre potenzialità. La moto va molto bene, Aprilia sta lavorando molto bene, anche il team Yoda. E stiamo cercando di migliorare per avvicinarci il più possibile ai primi. Ovviamente non è semplice, tanti anni che corrono e sono molto esperti, però sicuramente ce la metteremo tutta. E direi che anche da parte del team si stia veramente lavorando, perché forse all'inizio magari nessuno si aspettava di poter ottenere questi risultati. Quindi quando arrivano certi risultati poi ci si mette ancora più impegno per vedere di poter ridurre il gap dagli altri. Beh è chiaro, adesso è anche un discorso anch'io che comunque ancora posso migliorare parecchio e devo prendere un po' in mano questa categoria e questa nuova moto. Perché comunque sì è vero che siamo a metà campionato, però comunque quest'anno il format della Superbike permette di girare veramente molto poco all'interno del weekend. E quindi ci mancano un po' di chilometri. La moto è molto competitiva e adesso vedremo, adesso partiremo la prossima settimana per l'America, pista nuova, però cercheremo di fare il massimo. E certo, anche perché le novità sono sempre quelli che stuzzicano di più, no? Ebbè quello sì è chiaro, poi soprattutto laguna seca, c'ha il giro di fascino oltretutto. Eccolo là, eccolo là.